Tutto giusto, ho talmente tanti bottoni, eccoci siamo live, ho talmente tanti bottoni che dopo un po' pigio a caso, li scaccio tutti nel dubbio, poi ho adesso installato un altro microfono e a volte parte l'altro microfono e poi fischia, perché c'è Lars. Ma io pagherei per vedere il tuo ufficio, quello sì, vedere come si è strutturato, sì, no, pagherei non so quanto. Guarda, ho una quantità di tecnologia dentro qua incredibile, è venuto l'altro giorno un mio amico a dare un'occhiata per la connessione, così. Ho preso paura. E ha detto, ma dai, ma perché compri tutta sta roba? A me piace in genere i gadget, le robe e uno in realtà dall'esterno, nel mio caso è curioso, è come se uno ti vede parlare, pensa che parli e basta, no? E' come se uno ti vede e dice, sì, ma non hai mai giocato a pallavolo. E dici, ma cosa c'è? Non è che siccome, magari sì, no, capito? E nel mio caso uno pensa sempre che io parli e basta, magari la tecnologia sì, chissà, le freghe, invece io metto lì smanetto, cose, microfoni, le robe, mi piace, ecco mi diverto. Ma si vede e arriva, è il messaggio. Si vede proprio questo. Secondo me sì. Io però avrei sempre voluto saper giocare a pallavolo, ma non sono mai stato capace, ma zero proprio, incapace. Però giocava a ping pong. Io giocava a ping pong. Avevo... Mamma mia, io sono stato in Cina, ho visto delle palestre strapiene di ping pong, gente proprio, ma ore e ore li guardavo e dicevo, ma basta, cioè veramente anche allenamenti, secondo me, dei ping pongisti, come si chiamano quelli che fanno ping pong? Pongisti, pongisti, sì. Pongisti, mi chiamano ping pongisti. Pongisti. In Cina è una cosa fuori dal mondo, cioè noi eravamo scioccate proprio. Ti racconto questo, sono andato in Cina, boh, non so, due o tre anni fa e sono andato a trovare, fare un giro, no, di un po' di aziende, così, per vedere un po' come erano. E a un certo punto ero a pranzo in questa grossa azienda e dico, eh, io ero un professionista di ping pong, io, diciamo, mio... Te lo voglio far vedere. E questa, cioè, subito ha detto, ok, you say, you prove. E mi hanno immediatamente, abbiamo interrotto il canto, mi hanno portato nel loro, nella, diciamo, area ricreativa, dove c'erano tipo venti tavoli da gara. No, no, li ho visti anch'io. Ma, all'interno dell'azienda e mi hanno messo subito a giocare con uno che per fortuna non era un fenomeno. Quindi ho fatto due palline e poi hanno detto, oh, allora ho avuto a quel punto grande, grande affetto. Non parlare di tutti quei pazzi che fuori dall'albergo, nei parchi, stanno lì a fare quei movimenti, li abbiamo visti? No, vabbè, guarda, io guardavo col megafono, tornate a casa, cioè, chiaramente guarda. Però, insomma, è stata anche quella un'esperienza. Perché noi abbiamo bastanti anni anche il C. Io sono a Livorno. Ah, Livorno sei, caspita, ok. Ma tu di che città sei, invece? Io sono a Brighton. Sembra un appuntamento al buio, ma tu di dove sei? No, ma di che città sei, italiana? Dove sei nato? Milan, milanese, io sono milanese. Ah, milanese, ok. Perché l'accento, io riconosco facilmente gli accenti, ma l'hai perso fortemente. L'ho perso, perché sai, io sono milanese, però ho sempre viaggiato tanto per il ping pong, perché giravo a fare tutte le gare e così, quindi ero sempre in giro. Prima in Italia, poi ho fatto tre anni all'estero, giravo sempre a fare tornei e allenamenti, e quindi l'ho mischiato. E poi ho fatto vent'anni in Liguria, io ho delle parenti, insomma, Liguria, e quindi mi sono entrati un po' di accenti vari. E poi vivendo all'estero, insomma, alla fine non sai neanche più tu di dove sei. Anch'io ho perso un po' di accenti, perché io sono di Carrara, poi ho giocato a Perugia, poi sono andata in Sicilia, poi sono andata a Bergamo, poi sono andata a Napoli, poi sono andata a Spagna. Quindi nemmeno io so che accento, perché siamo un po' tutti bastardisti. È un miscione. Esatto. Qual è stata la città più dura dove giocare? Nessuna. Nessuna. Ma dove proprio il pubblico era clamorosamente cattivo e acceso, ce n'era uno in particolare? No, però c'è stato un episodio incredibile in Sicilia ad Agrigento, ad Agrigento, un ambiente molto caldo, molto affettuoso, ma anche molto esigente. Noi avevamo una super squadra, anche però in un momento della stagione andava male. Ricordo che vincevamo 2 a 0 una partita e l'abbiamo clamorosamente persa 3 a 2, e siamo rimasti negli spogliatoi per, diciamo, quasi tutta la notte, perché loro ci aspettavano fuori, quindi abbiamo cenato dentro lo spogliatoio. Io poi dicevo, dai usciamo, e loro, ma dove vai? C'era proprio una città arrabbiatissima contro di noi. Io invece volevo uscire e ho detto, cosa vuoi che ci faranno? E loro, no, no, rimani qui, rimani qui, tutta la notte nello spogliatoio. Chi provava a dormire in terra, chi su una panchina, chi nelle docce, perché comunque eravamo dodici ragazze, tutte rinchiuse. Io invece ho avuto un'esperienza una volta, giocavo in Germania, io ero lo straniero che giocava in Germania, vicino a Stoccarda, era il mio club, e mi ricordo che una volta andiamo in Germania dell'Est a fare un incontro, salgo su un pulmino di quei pulmini gelidi, poi sai, più in poi è uno sport povero, proprio povero, e quindi pulmino gelido alle 4 del mattino, partiamo, andiamo in Germania dell'Est e andiamo in un posto, in una palestra, che sembrava una prigione, entra un pubblico di gente, in sostanza erano tutti mezzi ubriachi, e ogni volta le transenne e il pubblico sono lì, cioè, immagina, la transenne poi è una roba che fai così, via in giù, non è una protezione, è solo per le palline, e intorno, tutto intorno al tavolo, c'era questo pubblico di gente fuori che urlava con le trombe così a un metro di distanza, e in più, capito, quando andai a prendere la pallina, ti insultavano, ti sputtavano, ti lanciavano la monettina, e tu stavi zitto, capito, perché dicevi, intanto porto a casa la pelle, no? Bravo, bravo. C'hai dei posti che... Noi in Germania, ad esempio, avevamo, mi ricordo benissimo, andavamo in questi palazzetti a giocare, e loro avevano proprio un'organizzazione a livello musicale incredibile, trombe, chitarre, erano show nello show, facevano una confusione che alla fine uno non riusciva neanche più a comunicare, molto vicini poi al campo, quindi uno non sentiva niente, queste trombe incredibili che uno usciva con un'ottite fortissima. Devo dire che hai ragione, in Germania sono molto ben organizzati anche, c'è la parte proprio del concerto, poi quelli che continuano senza mollare, i rooster che viaggiano a destra sinistra, i rooster, poi c'è vero, per rooster, la grande. È una sera all'interno di una partita. È incredibile, peraltro, come... L'audio, se tu fai uno sport con un oggetto, no? È una palla, devi sentire il rumore, nel momento in cui non senti niente. Il mio problema principale, a volte andavo in questi palazzetti, non sentivo niente, non sentivo il rumore al palino, non sentivo niente. E quindi per me era una situazione dove perdevo ogni tipo di riferimento, ecco. Poi magari una pro come te si abituava e quindi, come dire, andavi avanti lo stesso. Però è... No, è giusto, perché comunque entri in palazzetti dove c'è una confusione, magari anche quelli piccoli, io ad esempio ricordo il palazzetto di Matera, ad esempio, che è stato campione d'Italia per tanti anni, e quella era una fossa dei leoni, dove entravi già intimorito perché era piccolino. E poi facevano questo tifo proprio vicinissimi. Andavi a battere, ti giravi, avevi 4-5 ultra belli tenaci. Quindi, insomma, era il gioco nel gioco. Quindi ricordo, ecco, che non riuscivo a comunicare. Però, sai, in un team a volte bastano anche gli sguardi. Però, insomma, la situazione era abbastanza tosta. Ma ti manca un pochino quella gara, il momento della gara? Perché io a volte ho proprio... Nel weekend, perché, vabbè, le gare hanno sempre nel weekend, ho un po' di mancanza, di quel momento agonistico dove entri in campo, c'hai quel brividino da qualche parte che dici adesso vado e competo. O è una cosa che è passata ormai quella andata? No, io sono uscita di casa a 15 anni. E ho fatto più di 20 anni, diciamo, tra nazionale, club, quindi crescendo velocemente, bruciando velocemente anche le tappe, diciamo, della mia vita. Sono diventata grande subito. E ero anche ben consapevole che avrei dovuto chiudere la mia carriera presto, perché io credo che lo sport sia un simulatore di lusso della vita reale. Quindi io avevo chiaro, no, che in un determinato momento avrei dovuto chiudere. Ho smesso a 32 anni, tra l'altro il mio ruolo è un ruolo abbastanza longevo, nel senso che la palleggiatrice può giocare anche fino a 40. Però io ho sempre visto la vita come una serie di cicli che vanno aperti, ma bisogna anche saperli chiudere. E quindi mi sono buttata in un altro mondo, e poi ho voluto anche investire sulla mia vita privata, perché lo sai, una donna che fa sport ad alti livelli non ha una vita personale semplice, perché un uomo ti aspetta un mese, due mesi, ma dopo sette, otto mesi di ritiro, dove torni e stai due giorni a casa, e poi riparti per un altro mese, e poi dopo c'è l'Olimpiade e ti rivedi a fine estate, insomma, deve essere un santo ad aspettarti. Io di santi non li ho mai trovati. Peraltro il problema di chi fa agonismo è che comunque, cioè la cosa che uno si dimentica, secondo me, è che quando competi ad alto livello, in qualunque settore, può anche essere nel business, se tu fai una start-up e competi, è come fare uno sport olimpico, e non è tenero, cioè non è che tu puoi essere, come dire, bello rilassato, perché poi devi andare in campo a portarla a casa, e quindi anche quando sei magari fuori dal ritiro, e sei a casa quei due giorni, tre giorni, tu comunque sei... E quindi è difficile avere dei rapporti se qualcuno non comprende molto bene quel mondo lì, in generale, ecco. Quindi questo è l'altra problematica. Questa è un'ottima osservazione, infatti mio marito è un uomo di sport, anche lui ha fatto sport, ha fatto basket, e per questo mi capisce, no? Non è semplice, anche perché quando stacchi in quei due giorni, hai comunque in testa magari la partita che dovrai fare dopo una settimana, hai quei due giorni dove dentro i due giorni c'è la trasferta per arrivare a casa, quindi mezza giornata di un giorno, e mezza giornata di un'altra, la perdi per andare e tornare, quindi è tutto sul filo del rasoio, pochissima vita personale, privata. E poi se ci pensi anche il fatto di cambiare in continuazione, io ho fatto 22 traslochi nella mia vita, che uno dice 22, però da sportiva sono semplici, metti ginocchiere, scarpe, insomma non sono traslochi molto impegnativi, però ecco il fatto di dover magari vivere due anni in un posto, e poi magari iniziare ad avere le tue amicizie, e poi dover tagliare tutto, perché devi comunque cambiare club, altra città, altra cultura, altra storia della tua società, e comprenderla anche velocemente, non è facile, non è stato facile. Io l'ho allenato inconsciamente fin da piccola, perché ricordo che quando andai a Perugia, che fu la mia prima squadra di Serie A, ero molto entusiasta, perché io sono sempre stata abbastanza, non dico ribelle, però particolare come ragazzina, a me piaceva giocare a pallavolo, e i miei genitori vedevano lo sport come una cosa, sì, da divertirsi, però poi devi concentrarti sullo studio, insomma sono due imprenditori, quindi non hanno mai amato questa mia predisposizione a lasciare casa velocemente. E io l'ho fatto in maniera molto determinata, e mi ha aiutato molto, perché ero consapevole che, non avendo proprio questa fiducia forte nei confronti della mia famiglia, in qualsiasi modo io dovevo sapermi rialzare dalle tante cadute che io ho avuto nel mio percorso. Ma che cosa hai studiato nel frattempo, mentre pallavoleggiavi? Ma guarda, devo dire che io ho studiato, il mio sogno prima di giocare a pallavolo era quello di essere un interprete, io ho fatto liceo linguistico e quindi mi piacevano molto le lingue, ho fatto francese, la mia mamma che è di Stoccolma mi mandò all'età di sette anni in un Kinderheim per imparare il tedesco e io tornai con un romagnolo fortissimo perché in questo Kinderheim dove c'erano tutti i bambini tedeschi c'era un solo bimbo della Romagna e quindi io mi ero affezionata a questo bimbo e avevo preso l'accento romagnolo. Quindi la mia mamma quando tornò, siccome lei aveva la nonna austriaca quindi parlavano anche tedesco, mi faceva domande e io rispondevo il romagnolo. Quindi grande successo per questo esperimento diciamo di imparare la lingua tedesca. E poi ho imparato lo spagnolo perché ho viaggiato e ho vissuto tanti anni in Spagna e questa cosa a me mi rende molto orgogliosa perché a volte sogno in spagnolo e si dice che quando si sogna nella lingua che tu conosci veramente bene una lingua quando sogni parlando in quella lingua. Volevo chiederti un'altra cosa, scusa, mentre stavo guardando i commenti e mi fa morire. Io non li vedo e sono... Meglio, no scherzo no, un sacco di persone peraltro, un sacco di complimenti, però mi ha colpito un commento di una ragazza che diceva ma chi è l'ospite? E me lo chiedono ogni volta su qualunque personaggio, per dire lunedì intervisto Moby, il cantante insomma, un'icona della musica, sai quanti commenti di gente? Ma chi è questo? E ho pubblicato, ma chi è? Tuo fratello? No, è Moby. E qualunque personaggio, le generazioni sono una cosa pazzesca, o magari ti conoscono per l'ultima cosa che hai fatto, e non per quello che uno ha fatto prima. È una roba che a me colpisce sempre. Comunque, a parte questo, cosa pensi dello sport di squadra? Perché io sono sempre stato un singolarista ed è un difetto che mi porto dietro anche adesso facendo l'imprenditore. dove vedo, no, il mio approccio è molto, come dire, faccio da me, no? Me la risolvo io, alla fine ci penso io, ci sono io. E invece, quando c'è una squadra di persone, non funziona quell'approccio lì. E per cui ho fatto un sacco di fatica all'inizio, no, a pensare, a dire, no, c'è una squadra, è un team. E invece ho sempre fatto uno sport singolo da singolarista. E dall'altro lato, mi sono sempre domandato come si faccia a gestire un rapporto di squadra. Perché se io avessi fatto uno sport di squadra e poi c'avevo lo schiacciatore che quel giorno aveva le palle girate, dicevo, zio, non funziona così, no? E quindi diventa difficile poi la gestione dei rapporti. Come funziona? Tu come l'hai approcciata e come te lo sei portato dietro adesso? Allora, io sono uscita di casa che pensavo di essere la giocatrice più forte del mondo. E avevo un grande talento perché io guardavo la palla a volo dalla televisione, i miei genitori non mi avevano iscritto al corso di pallavolo, però io sapevo già fare il bagger e sapevo fare il palleggio e quando andai di nascosto, di nascosto al primo corso di pallavolo, l'allenatore rimase molto stupito, ma io ero sicuramente un talento perché ho imparato velocemente e avevo anche una bella visione di gioco. Però io dico sempre che il talento è un dono e il sacrificio è una scelta, quindi io ho imparato a capire come essere una buona giocatrice, perché tu puoi essere anche un grande talento, ma se scegli di giocare a pallavolo, è vero che siamo tutti battitori liberi, nel senso che ognuno vuole dare il meglio di sé, però io pensavo di essere la giocatrice più forte e quindi entravo con questa mentalità molto indipendente, no? E ho capito velocemente a 15 anni quando sono andata in un club di serie A che potevo essere anche la più forte di tutti, ma comunque se non sapevo collaborare e mettermi a servizio delle mie compagne valevo zero, nel senso posso fare una schiacciata fantastica, ma se non difendo, se non capisco la collega che ho a fianco, la mia compagna, allenare anche l'empatia, non nasce il gioco di squadra, quindi io sono una donna di squadra per eccellenza, faccio squadra con tutti, con tutti, con le mamme delle chat room della scuola, faccio la capitana. Anche tu, ogni due minuti c'è un gruppo Whatsapp che nasce con grandi discussioni, perché io poi sto sportiva, sono pratica, io quando una mamma mi dice ma può dire alla preside che gli zaini sono troppo pesanti? No, non glielo dico, cioè sono anche molto non amata, forse perché sono molto sportiva, ecco, se ci sono due libri in più, si portano due libri in più, io le ho portate le cartelle piene di libri, quindi perché adesso i bimbi devono andare a scuola senza nulla, queste sono le regole della scuola e vanno rispettate, ecco, anche questo rapporto con le regole per me è nel mio DNA, ma perché io sono nata in un team dove c'erano regole che dovevi rispettare, anche se non sempre le ho rispettate, devo essere sentito. Io sono molto rispettata in un team di Serie A. Sì, sono andata in questo team di Serie A e avevo vinto sicuramente dei premi come miglior giocatrice, miglior under 15 e io mi sentivo fortissimo, avevo vinto un trofeo di Topolino che si organizzava in Italia, che era un trofeo per le giovanili e pensavo di aver vinto in Olimpiade e ricordo che quando arrivai a Perugia in questo club, che era già un club professionista, io parlo già di Serie A, avevo 16 anni lì. Quando entri in un club di Serie A non interessa nessuno quanti anni hai, tu devi essere performante subito. Io ricordo che un atleta, tra l'altro, che aveva vinto diverse competizioni, aveva giocato tante Olimpiade, mi chiese ma tu che cosa hai vinto? E io gli dissi io ho vinto il trofeo di Topolino, cioè per farti capire quanto piccolo e giovane fossi e anche incosciente, Topolino, poi l'era peruviana, ma che cosa hai vinto? Che trofeo è? Che torneo è? Tu devi dimostrare. Quindi io ritornei umilissima, perché mi fece bene anche capire che comunque avevo tanto da imparare, non bastava soltanto quello che sapevo fare bene. E di lì quali sono stati per te i momenti più importanti da quando sei entrata nel club? Quali sono stati per te i momenti diciamo della tua carriera pallavolistica più rilevanti o che ti ricordi che hanno proprio svoltato? C'è stato un momento in cui hai detto ah qui mi sa che proprio di mestiere gioco a pallavolo per un po'. Era una cosa come dire che ti era chiara da subito o l'hai capita in un certo momento? A parto dal presupposto che mi piaceva molto giocare a pallavolo però io ho sempre visto la pallavolo come un'opportunità per arrivare a quello che io cercavo. Io sono sempre stata molto curiosa nella serie. Quando mi davano due giorni liberi e tutte le atlete durante i giorni liberi devono rimanere a casa a riposarsi io prendevo un treno di nascosto partivo e giocavo a Bergamo tanto ora lo posso dire non mi possono più multare esatto io prendevo e facevo questo prendevo questo treno di notte che partiva da Milano e arrivava a Parigi arrivava a Parigi io stavo a Parigi penso 6-7 ore e poi tornavo andavo sempre in zona Montmartre insomma tornavo e mi facevo tutto un viaggio di ritorno quindi una faticata allucinante per stare quanto 5-6 ore e ricordo che l'allenatore ci chiedeva sempre vi siete riposate cosa avete fatto c'era quella che diceva sono andata a fare shopping ho letto un buon libro sono stata in casa a vedere la televisione e io dicevo anche io che avevo fatto tutte queste cose qui invece sotto i piedi avevo delle grandi galle perché poi camminavo come una matta cioè delle cose da incosciente totale ma non l'ho fatto solo da giovane l'ho fatto anche in età avanzata ecco questa predisposizione a vedere quello che c'era intorno a me per me era assurdo ad esempio andare a giocare a Tokyo e rimanere rinchiusa dentro un albergo per 20 giorni io dovevo vedere cosa c'era fuori allora di nascosto uscivo che non era permesso e girare per Tokyo soprattutto nella metropolitana è come rischiare di non tornare mai più in albergo perché già le indicazioni non le capisci i giapponesi non hanno un grandissimo inglese quindi io rischiavo veramente la vita poi ero il capitano un esempio però quella parte lì creativa curiosa l'ho sempre avuta ok ero un po' una ribelle insomma poche parole ma c'è stato un momento particolare che ha svoltato la tua carriera oppure semplicemente sei entrata in serie A 15 anni e boom alla grande fino alla fine fino a fine carriera c'è stato il primo momento in cui ho dovuto fare delle scelte che di primo impatto non volevo fare perché da Perugia sono dovuta andare ad Agrigento e io non volevo andare ad Agrigento perché per me era veramente lontano da tutto no perché riuscire ad arrivare a Catania e perché io pensavo sempre a come gestire poi anche l'altra mia vita no e rimanere Agrigento per me era come essere Napoleone a Sant'Elena non potevo muovermi e invece feci proprio quella scelta che era la più difficile perché questo club giocava delle coppe europee quindi era comunque un sacrificio ma che mi dava anche più visibilità e quindi arrivai ad Agrigento un pochino così e tornai con le lacrime perché poi mi affezionai in maniera incredibile ad Agrigento alla Sicilia cioè riuscii ad apprezzare anche questa lontananza tecnica diciamo con grande con grande passione con grande amore e di lì poi hai detto hai giocato fino ai 32 che comunque adesso meno però quando hai smesso tu 32 comunque non dico che era già vecchio però insomma 32 adesso Feder gioca fino a 40 anni e uno dice ah è ancora strepitoso però 10 anni fa non era così insomma è cambiata molto migliorata anche la preparazione atletica e tutta la gestione insomma dell'atleta prima uno probabilmente si logorava anche prima ecco immagino sì ma il mio ruolo è un ruolo particolare perché io sono la palleggiatrice e ora ti interrogo sui ruoli no a parte la palleggiatrice è quella che passa la palla lo schiacciatore il centrale sono ruoli un pochino più pesanti perché comunque anche attaccare tanto ai tanti infortuni la palleggiatrice solitamente va molto più avanti negli anni e più avanti va negli anni e più migliora la sua la sua performance no io ho voluto smettere perché perché volevo vedere un altro mondo con occhi diversi e poi perché non volevo più essere chiamata quella della pallavolo no ho detto ma finiranno se quella della pallavolo e invece rimarrò sempre quella della pallavolo tranne per i miei figli che hanno dei grandi dubbi perché loro mi dicono mamma ma ti dicono che hai giocato a pallavolo ma noi queste coppe non le vediamo queste medaglie d'oro dove sono io non le ho mai esposte perché credo che la più bella eredità dello sport sia stata proprio quella di allenare l'empatia avere un'apertura mentale grande di aver visto tanto mondo questo secondo me è il regalo più bello che mi ha dato lo sport ed è quello che io cercavo ok ma hai giocato a pallavolo siamo sicuri sì esatto tra l'altro mi dicono la mamma si dimentica le cose e il bimbo più grande dice ma sai perché ha preso tante pallonate in testa io li guardo come per dire cioè loro fanno uno spot contro la pallavolo fortissimo ma anche questo è motivo di grande soddisfazione cioè loro fanno tutto fuorché pallavolo senti parlavo stamattina con un mio amico che vuole lanciare c'è un'iniziativa sull'educazione educazione istruzione degli sportivi in particolare nel calcio per aiutare gli atleti a passare diciamo il passaggio da quando smetti di essere atleta quando devi fare qualcos'altro e giustamente mi diceva incredibile come tu hai tutta una serie di atleti che sono straordinari che dedicano la vita appunto magari a uno sport e poi per infortunio o perché arrivano alla fine della carriera e poi non sanno fare nient'altro cioè sono fermi lì e quindi c'è un problema di transizione non è differente anche non è solo di abilità ma di identità ecco questo è il concetto perché la tua identità io l'ho vissuta con me io cioè tuttora sono un giocatore di ping pong no? se tu io sono un pongista no? è proprio l'identità si radica in quegli anni che tu dedichi che sono anni fondamentali per la crescita di una persona e allora il passaggio non è non è banale ecco quindi volevo capire come l'avevi gestito tu io l'ho gestito con consapevolezza perché ho sempre pensato che la vita è fatta di cicli che si aprono e si chiudono e quindi quel ciclo lì doveva comunque chiudersi e e mi sono preparata cosa che non tutti gli atleti sanno fare lì il problema non puoi pensare di giocare a pallavolo per tutta una vita no? e quindi devi essere anche pronto al dopo e come ti prepari visualizzando no? visualizzando quello che sarà il tuo futuro io quando quando vedo tanti atleti che io ho avuto a che fare con tante persone che mi hanno detto ma ora cosa faccio io ora smetto ma cioè proprio impauriti dal mondo fuori no? perché per anni sono rimasti in campi da calcio con quella mentalità con quel quindi da una parte sei anche molto protetto quando poi esci sei te non è che puoi andare in un'azienda a dire io palleggio molto bene io faccio un bagger strepitoso perché ti dicono va bene grazie ma andiamo avanti e quindi io avevo chiaro e l'ho tenuta questa idea molto segreta non ho mai voluto dire a nessuno non sapeva neanche la mia famiglia e ricordo di aver fatto l'ultima partita sapendo che sarebbe stata la mia ultima partita volendo fare l'ultimo punto proprio io della chiusura del campionato perché era un dono che volevo fare a me stessa di tutto il percorso e dopo che è finito tutto io ho comunicato che avrei smesso ma l'ho comunicato in maniera molto serena senza di saluti che a me sinceramente mi fanno mi fanno un po' un po' tristezza perché sembra che una persona è morta quando c'è l'addio di qualcuno ma io la vedrei più come una festa bella e stop cioè la vita si chiude ma hai fatto qualcosa di bellissimo ora porta tutte quelle skill che hai allenato in altri ambiti perché lo puoi fare quindi io credo che questa cosa sia importante per gli atleti che oggi ancora non sanno quando sceglie a volte allungano ancora di più la carriera facendosi del male perché magari non sono più all'altezza di prima e magari preferiscono prendere critiche per non decidere di smettere oppure perché si ostinano a pensare di essere ancora fantastici non è così non è così e poi anche perché io credo molto nei giovani ed è giusto dare spazio anche a quelli che arriveranno e non che dobbiamo metterci di mezzo a una certa età fuori però ecco cercare di capire che fuori dal mondo dello sport ci sono tante altre opportunità che devi anche sapere cogliere poi non le farei magari in maniera eccelsa in maniera olimpica però intanto ci sei per me anche sull'identità un problema forse è quello di vedere lavorativamente che la vecchia idea che uno faceva un lavoro solo entravi ti studiavi e poi facevi un lavoro tutta la vita e allo stesso modo facevi non so il calciatore o il tennista basta quella era la tua carriera e poi è finito invece oggi noi siamo secondo me in un mondo dove tu puoi avere cinque carriere diverse nella tua vita professionale dieci venti dipende dipende quanto vivi quanto sei bravo quanto spazi e per cui uno è assurdo che si rinchiuda io l'ho fatto per anni pensavo ok più di quello che ho fatto come giocatore di ping pong che ero una pippa perché vuol dire ero numero cinque d'Italia non è che fossi ai tuoi livelli no? quindi ero così un mediocre giocatore di ping pong a livello internazionale però per me era il top che potessi mai raggiungere nella mia vita quindi ho detto basta dopo questo cosa faccio finito vado in pensione tra un po' quindi tu hai fatto un passaggio di grande lutto quando è chiuso la tua attività ci ho messo un sacco a metabolizzare perché il problema anche banale che comunque in quel settore lì io avevo il mio ruolo avevo la mia come dire autorevolezza sentivo in una palestra diceva c'è Montemagno e quindi quando poi esci per strada e uno dice ma tu chi sei appunto vai in un'azienda e dice vabbè ma chi se ne frega io so giocare bene a ping pong esatto non gliene frega niente a nessuno allora devi devi proprio ricostruirti completamente e uno lo sottovaluta però capisco perché molti atleti sbarellano perché dopo un po' più alto anche il livello che hai raggiunto più diventa difficile da gestire il dopo la vita sembra molto noiosa non hai più quel brivido del match o del pubblico e tutto quanto quello è vero l'adrenalina di entrare di mettere il primo passo dentro un palazzetto che che è un'olimpiade magari no quella è sicuramente qualcosa cosa che a volte faccio fatica anche a raccontarla perché me la ricordo ancora no quell'adrenalina lì la capisco però allo stesso tempo il valore che hanno tantissimi atleti viene sottovalutato perché l'atleta ma io dico parlo sia di sport di squadra che sport anche individuale la resilienza il coraggio il mettersi in gioco affrontare momenti di difficoltà gestire la sconfitta come un'opportunità per migliorarsi e vincere la partita successiva cioè sono tante attitudini tanti tante skill che noi abbiamo allenato nella vita io dico è tutto allenabile e non saperli riconoscere è un problema perché comunque le puoi passare anche in altre la capacità di cambiare cioè io giocavo magari una partita con uno schema e all'ultimo secondo dovevo cambiare quello schema perché magari mi rendevo conto che non era efficace e l'ho fatto col mio team anche questa cosa noi l'abbiamo allenata in continuazione giorno dopo giorno ed è un qualcosa in più se ti pensi ad un'azienda avere una persona che ha questa testa che è capace di switchare di essere già pronto a una nuova strategia è sicuramente avvantaggiato rispetto a chi invece non ha mai fatto sport ha studiato ha preparato però magari in un momento di difficoltà ora cosa faccio l'atleta l'ha allenata quindi non può dimenticarsela certo se la gestione della pressione in generale lo vedi subito se uno è stato un atleta un agonista ma anche nelle situazioni più semplici lo vedi lo vedi se uno ha gestito una pressione a qualunque livello resta l'altra cosa che a me colpisce ci ragionavo l'altro giorno è che io ho fatto degli sforzi enormi per la gloria cioè non è che c'erano dei soldi no era per la gloria per poter dire ho vinto il titolo ma enormi andavo giravo mi allenavo come un pazzo così e uno dice ma ti pagavano no zero non c'era non è giusto così è giusto così perché poi anche sul lavoro non può essere che tu sei motivato dai soldi perché ti motivano i soldi che cazzo di motivazione è devi avere una motivazione che va oltre secondo me è un elemento caratteriale importante che resta agli atleti sì io devo dire che la pallavolo femminile è uno sport molto amato e in Italia molto seguito e quello che dici tu è vero noi per anni abbiamo preso delle battoste incredibili tanta voglia di prendere e andarcene tutte via io ho preso ad esempio anche una scarpata in faccia della mia compagna perché gli avevo fatto un palleggio terrificante cattivo ho fatto apposta veramente sì perché mi aveva sfinito perché io dico sempre i team le aziende non devono essere delle buone famiglie no cioè non dobbiamo volerci tutti bene però arriva anche un momento in cui questa compagna magari non la sopporti e ti viene no da mandarla a quel paese quindi io gli feci questo palleggio cattivissimo cattivissimo vuol dire un palleggio che scomoda che sei consapevole che lei non potrà mai attaccare questa cosa ecco è l'anti pallavolo quella di cui ti sto parlando adesso e lei attaccò questa palla poverina che era inattaccabile e poi si abbassò si abbassò e ho detto ora qui succede qualcosa perché conoscevo anche il personaggio perché poi ci si conosce bene e si sfilò la scarpa quando si è sfilata la scarpa che le pallavoliste lo sapete bene non hanno un 35 36 noi passiamo dal 41 in su sfilò questa scarpa e io ho avuto mezzo dubbio magari una distorsione poi mi guardò e io ho detto ecco quella è dirizzata a me e quindi partì con questa 42 43 ma forse anche 44 perché Laura aveva un bel piede puntandomi ora io dietro avevo l'arbitro che era sul seggiolone e da buona regista che insomma la palleggiatrice è molto scattante schivai la scarpa che arrivò poverina sul povero arbitro quindi un'immagine di poco spirito di squadra poca collaborazione ma la vita è così cioè non dobbiamo prenderci in giro andiamo tutti d'accordo ci vogliamo tutte bene siamo un'azienda fantastica siamo tutti non è così ci sono momenti in cui uno perde un attimino il lume però è poi la capacità di saper poi reagire ecco dopo la scarpata ci sono state grandi discussioni belle accese poi io parlo anche di team tutti femminili quindi noi non ci dimentichiamo nulla noi donne io mi ricordo che tu nel lontano 92 a Tokyo non mi hai aperto la porta e per questo ancora non ti parlo cioè delle cose assurde però poi si superano si superano perché devono essere superati se vuoi vincere se vuoi avere una mentalità io dico mentalità vincite più che vincere devi fare questo step no? devi comunque vedere tutto come una cosa un feedback negativo che però può essere visto in maniera costruttiva e dopo quando hai smesso che cosa cosa hai cominciato a fare subito allora quando ho smesso mi hanno mi hanno chiesto di di collaborare per per Sky e quindi io ho iniziato a fare diciamo a parlare di volle in televisione però devo essere sincera non era una cosa che mi piaceva pessima commentatrice perché praticamente dove vedevo le mie amiche io difendevo tutte le mie amiche se poi dovevo commentare la nazionale italiana anche se perdeva per me erano le più cioè ero ancora giocatrice in campo e e poi soffrivo terribilmente perché comunque vederle lì e magari stavano perdendo no per niente cioè non ero obiettiva non ero una buona commentatrice e poi sinceramente la televisione non è che mi ha mai entusiasmato non non mi piace tanto ho fatto una parte in un film maschi contro femmine ad esempio che è un film molto carino dove per girare due minuti di di una parte ci abbiamo messo un giorno intero perché io non riuscivo a dire quelle cose perché mi ero emozionata cento persone dietro per dire una parte dai ragazze c'è il regista che ha detto ma questa sarà stata forte a pallavolo ma insomma per il resto è un disastro e mi sono proprio vergognata ma perché sentivo che non era una cosa mia ecco infatti quando mi dicono sei stata un'attrice no io ho fatto due minuti in un film e per fare quei due minuti ho fatto impazzire tutto lo staff i registi autori e tutti quindi è stato un inizio e una chiusura brevissima niente cinema niente commentatrice e a quel punto no dopo hanno iniziato a chiamarmi ma già anche quando giocavo aziende società per parlare proprio di come fare squadra come fare team io ho avuto un grande allenatore che è stato Giulio Velasco che mi ha sempre detto che siccome ero la capitana io dovevo comunque parlare quindi io ho allenato questa capacità di comunicare anche quando non volevo no perché quando vai in un paese è perso 3 a 0 vai in sala stampa lui diceva ora tu parli perché sei la capitana e quindi devi comunque comunicare io tutto questo ne ho fatto eredità e hanno iniziato a chiamarmi diverse aziende per parlare proprio di questo spirito di squadra di come si allena delle realtà dei team di come gestire magari i momenti di difficoltà di come essere anche un buon leader no perché per me un leader è semplicemente se stesso ma deve essere necessariamente un esempio no perché se non credi in una cosa che fai è inutile essere un esempio e quindi io l'ho fatto ho iniziato piano piano ricordo il mio primo speech che è stato per una diciamo un'azienda farmaceutica e mi ricordo che quando sono entrata mancavano due minuti prima dello speech ho guardato perché eravamo in questo super mega salone insomma e erano tutti farmacisti medici erano tutti serissimi e io ho detto ma io cosa racconto adesso no e mi ero preparata tantissimo avevo studiato avevo fatto tutto no perché avevo tutte le mie idee le mie slide il significato e i feedback e poi dentro di me ho detto oddio non ce la posso fare e allora ho pensato subito a quando ho messo il primo piede nel nel campionato di serie A che era la stessa emozione e ho detto se ce l'hai fatta a 16 anni non puoi non farcela adesso sono entrata avevo preparato tutte le mie cose tutto e ho cambiato completamente tutto quello che volevo dire e l'ho fatto col cuore l'ho fatto veramente in maniera molto dai di passione perché volevo far passare questo messaggio e a fine speech si alzarono tutti mi applaudirono io mi misi a piangere perché era un po' l'emozione questi tutti seri che non sorrideva nessuno ho detto ora qui faccio una figura perché cosa gli dico cosa gli racconto e invece evidentemente è passato il messaggio e da lì è iniziato dai uno dopo l'altro dopo l'altro dopo l'altro e sono andata avanti e oggi se uno ti dice che cosa fai che mestiere fai come ti ti definisci io non sono una coach perché non voglio insegnare a nessuno nulla anche per quanto riguarda la motivazione io penso che le persone non debbano essere motivate non debbano avere qualcuno che le motiva io porto la mia esperienza e la mia esperienza è un'esperienza particolare perché sono stata una donna di squadra una donna che crede tanto nei valori del team e fondamentalmente crede che cioè sono convinta che le aziende debbano fare collaborazione debbano sentirsi dei team e per fare questo ci sono tanti passaggi e sono molto simili i passaggi che ho fatto io per diventare poi una giocatrice di una nazionale che ha vinto e convinto perché noi all'inizio non vincevamo nulla noi prendevamo delle grandi battute ma quando hai detto Velasco allenava ma Velasco non allenava la nazionale maschile sì poi fece la scelta di scegliere il femminile ok e quando racconta Giulio lui dice che arrivò e insomma gestì il gruppo ma noi lo mandiamo al manicomio perché lui arrivava da un ambiente che aveva vinto convinto la famosa generazione dei fenomeni Zorzi Lucchetta Cantagalli loro erano i fenomeni noi non eravamo i fenomeni noi non vincevamo niente e lui fece per me uno dei migliori allenatori ma non tanto per come mi ha insegnato a palleggiare o a schiacciare ma per come è riuscito a cambiare il modo di comunicare in team per anni prettamente maschili e in team femminili quindi strategie di comunicazione differenti e a darci anche gli strumenti per essere delle migliori giocatrici nel comunicare nel venirci incontro perché noi fondamentalmente ci allenavamo tantissimo ma il risultato non lo portavamo a casa eravamo molto frustrate da questa situazione cosa che cambiò mister Velasco che saluto l'ultima volta che ci ho chiacchierato ero lì a prendere appunto in tali mi fermavano e dicevo aspetta aspetta mister Giulio è meraviglioso lui semplicemente per dire cadeva una palla tra due compagne cosa succedeva tutte e due stavano zitte 5-5 andiamo avanti poi battevano la palla ricadeva magari fra altre due tutte zitte e allora lui chiese a una compagna ma perché non dici nulla a Maurizia e lei rispose non dico niente a Maurizia perché non si sa mai in domani poi lei mi viene a dire qualcosa a me insomma quindi omertà terrificante e allora lui dice ma voi pensate di continuare così per altri anni perché sono anni che non vincete continuate a stare in silenzio nessuno dice come migliorare l'uno all'altro voi rimarrete così sempre e questo fu utile per noi perché iniziamo proprio a darci dei feedback che non erano solo positivi erano anche negativi ma costruttivi perché se io non so se tu mi dici guarda Maurizia parli bene però sbagli perché fai così io lo colgo comunque come una cosa che può essere utile a me se invece io dico eccolo lui mi offendo non te lo dico come facciamo come team ad andare avanti e lui lavorò molto in questo lavorò molto in questo e io sono molto grata a lui perché dopo di lui poi ci furono tutte le altre generazioni anche la capacità di delegare le altre di dare fiducia alle altre erano tutte skill che noi avevamo ma non mettevamo in atto per paura di chiedere per paura io se non chiedo non potrò mai sapere che risposta avrò quindi perché devo stare zitta se io ti chiedo dammi una palla più alta non c'è problema ok non posso schiacciare sempre la palla bassa tutto l'anno perché poi non vinciamo ecco in maniera molto chiara mi hai fatto mi hai fatto venire in mente un'intervista che ho visto con Pat Riley l'allenatore di basket NBA è un allenatore storico è presente quello sempre gelato sempre elegantissimo e a un certo punto entra nella conferenza stampa un giornalista gli chiede coach Riley allora come come pensa di motivare i suoi giocatori per il prossimo match e lui lo guarda come dice ma sei fuori testa io e gli dice ma io non devo motivare nessuno sono adulti sono professionisti fanno questo mestiere qua si motiveranno da solo cioè non sono mica qua a motivare però effettivamente dice ma sì oggettivamente anch'io non pensavo che invece dai ragazzi ce lo facciamo invece no non è quello l'approccio giusto guarda ci sono degli allenatori che vogliono il loro team e la loro i loro giocatori come dei burattini nel senso fate questo 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 e questo al primo problema time out adesso fate questo questo è loro sì 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 ma io non mi sento un allenatore perché se sei un buon allenatore se sei un buon leader tu devi avere il tuo team che entra in campo e sa gestire qualsiasi situazione nel bene e nel male poi tu riesci a a lavorarci sopra e a dargli e a dargli valore però la squadra deve andare con le sue gambe con la sua forza assolutamente assolutamente ma ti 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 diletti ancora di giochi ancora un pochino o fai qualcosa di sportivo come ti tieni in forma allora diciamo che sono pericolosissima perché fondamentalmente gioco l'estate e gioca beach ok però cosa succede che ad esempio racconto questo aneddoto che è fantastico un paio d'anni fa andammo in un villaggio e io avevo voglia proprio di giocare a beach e c'era una coppia di latina che avevano monopolizzato questo campo allora gli andai lì lì si posso giocare e loro mi dissero aspetta io ho detto vabbè aspetto io sono stata lì poi ma non ti conosceva no oppure no secondo me no ora arriva il bello no e quindi io ho aspettato tutto il pomeriggio che mio marito mi diceva ma cosa stai a aspettare di andare a giocare con loro e invece l'avevo presa di punta e non avevo neanche la coppia nel senso ero io da sola quindi io ho detto boh mi faranno giocare no e invece non mi hanno chiamato il giorno dopo sono ritornata lì e c'erano di nuovo questa coppia di latina che erano forti erano forti era amatori sul pezzo sì 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 che ci credevano particolarmente allora io ritorno posso giocare e loro mi guardano e mi dicono va bene ma c'hai qualcuno ci sei solo te e gli ho detto no no io c'ho mio compagno e ricordo che andai a prelevare un povero disgraziato che era lì che voleva farsi i cavoli suoi però ho visto che era ragazzo e gli ho detto beh non male qualcosa di pallavolo e lui mi ha riconosciuto gli ho detto vieni a giocare con me e gli ho detto Maurizia gli ho detto vieni a giocare subito con me ti prego e lui sì sì giochi a pallavolo ma insomma non era proprio un grande fenomeno lui si mise lì nel campo con me io iniziai in battuta con una cattiveria cioè perché io proprio questa cosa che non mi avevano fatto gioco ma non perché ero io perché non era giusto che loro monopolizzassero questo questo campo e quindi vincemmo gli abbiamo stracciati e alla fine il marito mi disse ma sai che sei proprio brava hai un palleggio che sembra quello di Maurizia Cacciatori e lì è stata l'unica volta nella mia vita dove con veramente gusto ho detto sì sono io sono io e loro ci sono rimasti malissimo gli ho rovinato la vacanza perché poi da lì tutti gli altri giorni Maurizia vuoi giocare io poi non ho più voluto giocare però non mi piaceva che loro avessero fatto questa cosa qui e mio marito mi diceva ma non ti puoi rilassare perché sempre questo spirito di guerriera anche in vacanza quindi io quando gioco sono pericolosa perché comunque voglio vincere voglio non mollo è l'agonista che in te io penso che devo fare una partita di ping pong per un concorso che avevo fatto e chi vinceva il concorso giocava contro di me a ping pong e ha vinto un ragazzo che gioca a ping pong davvero è anche bravo questo ragazzo e quindi ho pensato cosa faccio cioè mi faccio umiliare pubblicamente no mi alleno quindi ho comprato il robot ho un tavolo in casa con un robot e peraltro nulla mi alleno ogni giorno da solo mi guardano qua come dire sei proprio fuori di test cioè ma hai dei sì ho dei seri problemi ma ti capisco ti capisco no ma è così è così per nulla al mondo vorresti perdere una partita se ora ti dicessi ora fai una partita te devi dare per forza ovviamente è che scendo in campo così che passo per mi alleno poi magari perdo però mi alleno e vediamo no giusto è così ho avuto i miei schemi adesso sto cercando però poi è cambiato completamente non so ecco se la palla a volo sia cambiata negli anni il ping pong è un altro sport sono cambiate le regole la dimensione della pallina prima era tutto di dritto adesso si gioca tutto di cioè è proprio un altro sport quindi è non è facile c'è tanta tecnologia c'è tanta tecnologia tu puoi vedere perfettamente se la palla è dentro no c'è spettacolo le atlete gli atleti sono molto più fisici lavorano in maniera migliore sia dal punto di vista fisico che che tecnico tattico eh sì devo riconoscere che è almeno per quanto riguarda la palla a volo io vedo una palla a volo più bella più divertente e mi piace anche vedere le atlete che aspettano no il giudizio eh che arriva dall'arbitro che ti dice sei dentro è in o out quindi quell'attesa con la suspense che c'è la musichina sai sarà dentro cioè c'è tanto spettacolo che secondo me piace piace ai bambini piace alle persone che guardano da casa ma deve essere così deve essere sempre più coinvolgente lo sport perché è troppo importante deve essere un punto di riferimento soprattutto per i nostri figli si devono appassionare ma a parte i tuoi momenti agonistici da villaggio nel tuo day by day ti tieni in super forma di recente parlavo con Yuri Chechi mamma mia c'è un fisico va bene infatti Yuri Yuri non vale ma lui c'è una palestra proprio sì no è una roba che dici no no cioè com'è questa cosa qua ecco non è giusto insomma è strepitoso tu hai come dire tenuto un tuo regime oppure oppure fai altri sport o cosa fai guarda mi piace giocare a tennis devo dire mi piace correre però mi piace fare sport quando sento che ne ho bisogno cioè praticamente quasi tutti i giorni ma non ho tanto tempo perché io oggi sono mamma ok lavoro molto lavoro moltissimo e a volte mi sento anche in colpa di dire guarda esco un attimino vado a correre mi sembra di togliere qualcosa a loro poi io sono diventata mamma a 40 anni quindi se mi dici guarda forse tornando indietro ti dico guarda li avrei fatti prima ma prima giocavo a pallavolo quindi il poter stare con loro più tempo possibile e di qualità per me è fondamentale anche se mi disintegrano perché sono fisici si picchiano e quindi non è facile gestire però ecco non lo so mi sento cioè se devo fare attività ad esempio a loro piace giocare fare triathlon si va con le bici quindi vado in bici con loro però tutto in funzione loro bello senti cara è stata veramente una super piacevole chiacchierata peraltro scusami ti ho visto anche molto attiva sui social noi ci siamo anche incrociati su Clubhouse qualche tempo fa ti ho visto anche lì com'è? Smanetti? Spipoli e trapoli di digitale? ci sono dei social che mi piacciono e altri un po' meno Clubhouse mi piace molto perché c'è la libertà di essere quella che sei con la tua voce e libera e ci sono invece dei social dove per forza vedi delle storie sempre straordinarie e meravigliose che io dico ma non è possibile non sono reali e mi viene tanto da sorridere quindi su quella tipologia di social ci sono ma solo per scherzare e tirare fuori un lato mio che è molto buffo ecco io racconto molto ad esempio su Instagram le mie avventure con i miei bambini sull'analisi grammaticale sull'analisi logica sulla loro durezza cioè la durezza proprio che dopo dieci giorni che dici io ho mangiato è passato prossimo e tua figlia ti dice io ho mangiato è futuro che vorresti morire ecco quindi lo prendo con molta leggerezza mentre altri tipo LinkedIn mi piace molto perché mi ci ritrovo molto tante tematiche che sono che appartengono a me e quindi devo dire che mi piace sì però sempre con molto relax non sono dipendente dal dover comunque tutti i giorni dire qualcosa perché non ho da dire tutti i giorni qualcosa anzi alla prima occasione ci vediamo facciamo un meccetto di Beach Volley io gioco con te ecco sono incapace io rispondo a Beach Volley vieni con me vinciamo sicuro anche perché se no la passo a te cioè basta io mi sposto poi ritrovassimo anche la coppia di Latina sarebbe siamo di nuovo qui siamo di nuovo qui esatto senti bocca al lupo per tutto un saluto alle persone che ci hanno seguito su Clubhouse e ci aggiorniamo alla prossima ci teniamo in contatto peraltro scusami qua a Brighton dove sono io c'è il campo da Beach Volley c'è proprio è semplice in questo momento raggiungerti quindi in un attimo penso che hanno messo anche adesso è un crimine se uno esce dall'Inghilterra per andare in vacanza e ti multano quindi siamo chiusi ha molti arrestato proprio multa ancora c'è multa ma it's a crime e quindi non va bene insomma Boris ha detto no 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 in vacanza non ci mai resti in Inghilterra ah da giugno poi da giugno in avanti no secondo me la rilasseranno anche prima insomma però insomma immagino che migliorerà velocemente mi sembra una buona situazione buona insomma una situazione che tende al meglio mettiamola così bene Boris è stato veramente un piacere un piacere grandissimo buon lavoro ci aggiorniamo alla prossima ok ciao 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 ciao